al primo piano del convento ma attenzione prendiamo consiglio da un amico purello me dispiace tanto sta proprio rovinato è venuto fino in 39 rovinasse la seconda volta poi hai qualcosa da dirgli oltre a questo ripensaci 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 ma attenzione perché stiamo mandando la lettera a questo povero ragazzo che ci mangia sopra ci beve sopra se ne frega ragazzi se ne frega già la seconda volta mi giunge informazione vero? ciao come ti chiami? Calogero Calogero e arriva dal Trentino Adige con furore per la seconda volta in call position e vai sempre dentro ragazzi un applauso perché ha fatto il miglior tempo ragazzi il miglior tempo allora con chi ti sposi? con mia moglie la futura moglie che si chiama? Stefania dopo quanto? quanto cosa? quanto tempo che state assieme? tre anni dai tre anni no? pressa poco pressa poco ok Calogero dimmi cosa ti aspetti dopo questo sì? un altro no? no 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 perché no cazzo lo sì lo dico io perché no? sempre sì Calogero sempre dentro no 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 le gallerie le gallerie c'è interferenza aspetta aspetta interferenza c'è un tetto vai vai in siciliano vai che si aspetta facciamo pensare un attimo no 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 è felice è andante felice sono un po' complicato ogni buca è galleria in tempi caresti ogni pittusa è galleria mamma mia io l'ho dovuta suggerire io che arrivo da Muzzano poi ma non ci posso credere allora Calogero noi ti lasciamo alla seconda a secondo tentativo la seconda Muzz è produttiva è già produttiva produttiva è molto produttiva salutiamo la tua futura sigla grazie Calogero e facciamo un brindisi facciamo un brindisi aldriamo cazzo al